Domani è il giorno del voto per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico a giocarsi la poltrona di Via delle Fratte Stefano Bonaccini e degli Schlein. Qui in città se l'ex segretario provinciale Peppe Di Cristina e lo zoccolo duro del partito cittadino dall'illo speziale Giuseppe Arancio hanno scelto di schierarsi con Bonaccini è invece ufficiale l'appoggio alla Schlein da parte del segretario locale Guido Siragusa. Una decisione prevedibile anche perché diversi dirigenti della sua segreteria oltre che numerosi giovani del partito hanno deciso di supportare la proposta Schlein ma il segretario non ne fa una questione di correnti. Non ci sono schieramenti precostituiti io penso che ci sia stato una scelta assolutamente libera d'altronde il Partito Democratico è un partito plurale molto aperto laddove ognuno di noi può esprimere le proprie opinioni e per fortuna che sia così io ho deciso di votare la Schlein perché ritengo che sia la candidata più attrezzata per poter battere le politiche delle destre e poi ho voluto sostenere un comitato che è abbastanza fresco sia dal punto di vista anagrafico che dal punto di vista politico. Secondo Siragusa il risultato del voto di domani non rappresenterà però una conta per il prossimo congresso cittadino. Questa non è una conta per il congresso comunale non l'è mai stata qua si stanno fortunatamente devo dire sino ad oggi e penso che succederà anche domani si stanno confrontando due candidature per l'elezione segretario nazionale è ovvio che a Gela ci sono uomini e donne del PD che votano Bonaccini uomini e donne del PD che votano la Schlein io per esempio voto la Schlein ma ciò non significa che ci sia una cascata in automatico sulle politiche del PD locali. Poco più di un anno comunque alle amministrative c'è da creare un percorso? C'è da lavorarci e c'è da creare un percorso che ad oggi è molto difficile. Dal risultato di domani che cosa dipende? Dipende anche da secondo me la vera vittoria del PD sono quante persone verranno a votare perché da là si capirà il termometro se è un partito vivo se è un partito che i gelesi hanno dimenticato io mi auguro proprio di no perché seppur un partito che ha traversato mille traversie perché è normale così è perché il partito diciamo che forse più vecchio che per tanti anni diciamo calca le scene della politica locale quindi è ovvio che ha fatto degli errori ma anche ha fatto diciamo delle cose buone soprattutto a vedere qual è la situazione di oggi probabilmente qualcuno rimbiangono gli anni passati però detto questo è un partito che si propone invece di essere rinnovato e vedere tanti ragazzi tanti giovani impegnarsi per le candidature perché per queste candidature mi fa ben sperare. Il segretario lancia comunque un appello al voto a tutti i cittadini. Venite a votare il partito democratico mette forse è l'unico partito in italia che chiede il parere degli elettori di tutti gli elettori per l'elezione nel proprio segretario si voterà domani dalle 9 alle 20 proprio qua dove siamo noi quindi nel pezzale antistante la luigi capuana il voto sarà diciamo assolutamente come possiamo dire trasparente di questo me ne faccio grande io e me ne faccio carico io. Sarà assolutamente trasparente e il risultato verranno diramati verso le 21 in linea con i risultati nazionali. Io mi auguro che verrà tanta gente e auguro ai due candidati un in bocca al lupo.